È una situazione destinata ad esplodere quella che si sta verificando nelle ultime ore all'ospedale Piemonte. La carenza di personale medico ha causato la sospensione dei ricoveri proprio nell'area di pronto soccorso con un provvedimento che è diventato esecutivo a partire da ieri mattina a firma del direttore Michele Vullo e della responsabile di presidio Antonella Mangano. Si tratta di un ordine di servizio che elimina tecnicamente lo stazionamento nell'area di osservazione breve intensiva dove il paziente deve essere assistito nel minor tempo possibile e stabilizzarlo per essere trasferito in altri reparti. Nei casi più grevi il paziente può restare in questo locale detto hobby da 24 a 72 ore in mancanza di posti letto nei reparti appunto. Il direttore del pronto soccorso Clemente Giuffrida è su tutte le furie, l'abbiamo rintracciato proprio ieri sera e sostiene che questo provvedimento vada trasformato perché non risolve la carenza del personale ma anzi aumenta lo stress. Sono state allertate le unità di chirurgia, ortopedia e medicina proprio per ridurre il numero dei posti di degenza connessi al pronto soccorso. Comunque il dottor Giuffrida insiste, dice che non applicherà il provvedimento del direttore Vullo. Anche l'accorpamento all'IRCS centro neurolesi non salverà questa fase d'emergenza perché anche il centro del professor Bramanti potrebbe avere problemi a reperire il budget per assumere nuovi medici di pronto soccorso. Anche la guardia notturna di anestesia è andata in vacanza. Non a caso la dirigenza del Papardo ha pubblicato un bando per il reclutamento di sei anestesisti.